E' massacrante confrontarsi con i propri limiti tutti i giorni e andare oltre. La momenta che ho scoperto la performance, è qualcosa che non ho mai avuto in studio e fare qualcosa in due dimensioni. Quando tu performa, tu sei la forma. Perché noi rappresenti tutti, l'humanità. Penso che il nostro lavoro di attori o di danci, è di freecicicicici completamente, in modo che siamo preparati per prendere qualcosa. L'arte e la vita sono una cosa per me. Ho dedicato tutto all'arte. Il pubblico deve capire che non è soltanto ginnastica e non ci sono soltanto piedi e gambe, ma c'è un cervello, c'è un pensiero. Ha lavorato con una grande determinazione. Lei era madre, aveva figli, era davvero vera. Non è sulla virtuosità e non è sulla quale puoi camminare. È molto più di questo. La responsabilità che abbiamo di fare sempre di più. Ogni sera non bisogna deludere. Perché aspettano e sono sempre lì ad aspettarti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.